Vogliono ritirare la banca con le scale telescopiche. Salgo, mettono il plastico, fanno saltare tutto. Il T4 è potentissimo, hanno le spese di diamanti. Con il laser riscono a perforare delle porte larghe così. Entrano, prendono i soldi, vanno via e quando pensano di averla fatta franca... Ma la banca è dall'altra parte. La terza stella, il film di Ale Franz dall'11 marzo al cinema. Alla storia è bellissima.